Siamo con Massimiliano Triolo, giocatore allenatore del Lido Il Pirata Calcio a 5. Massimiliano, questo primo periodo, ovviamente soltanto due partite di Coppa, però un primo bilancio di questa tua nuova esperienza, come ti stai trovando? Innanzitutto ringrazio la società Lido Il Pirata per avermi dato la possibilità di fare questo doppio ruolo. Ovviamente non mi sento un mister, mi sento ancora un giocatore, però dato che mi hanno dato questo ruolo, metto a disposizione dei miei compagni tutto quello che ho acquisito in questi anni nel futsal, sperando di imparare qualcosa di buono a loro. Ecco tu che hai giocato tanti anni anche nel calcio a 11, ma da ormai 5 anni calchi i vari campi del futsal, addirittura hai avuto per ben due anni un grande mister, ex campione del mondo, tra l'altro come Everton Pires detto Rosigna, che ti ha insegnato tantissimo. Per quello che hai visto finora, quali sono le prospettive di crescita soprattutto di questo gruppo che individualmente sappiamo è molto valido per la Serie C2? Guarda, io in questi anni diciamo che la persona che ho acquisito più nel futsal è stata proprio Rosigna. Ovviamente noi, come ho sempre detto alla società, abbiamo un roster molto importante, qualitivamente molto importante. Poi sta a noi cercare di creare un gruppo, cercare di farli giocare bene e poi per quanto riguarda i risultati dobbiamo vedere partita dopo partita quello che succede e quindi ci vorrà sicuramente del tempo. Un'ultima battuta flash sul passaggio di turno in Coppa, all'andata sconfittasi a 4, al ritorno un 4-1 fuori casa, inaspettato fino a un certo punto, visto il valore della vostra squadra, che idea ti sei fatto di questo doppio confronto contro la MB Frosinone? Guarda Carmine, sono state due partite molto combattute. All'andata forse noi siamo stati non cinici, abbiamo sbagliato diversi gol e difensivamente abbiamo peccato in qualche cosina. Poi durante la settimana abbiamo preparato bene la partita, abbiamo visto all'andata che loro giocavano soprattutto con il numero 10, quindi abbiamo cercato di impedire lui di giocare e ci siamo riusciti abbastanza bene. Poi la cosa fondamentale è che siamo stati, a differenza dell'andata, molto molto più cinici. Bene Massimiliano, io ti ringrazio e ti faccio l'imbocca al lupo per questa tua nuovissima avventura. Grazie. Siamo con Mino Senneca, capitano del Lidl Pirata Calcio 5. Mino, per te una nuova avventura dopo vari anni passati all'Atletico Sperlonga, ovviamente conosciuto a tutti nella platea del Fuzzalfondano, anche per i tanti tornei estivi come quello importantissimo del Fondisame Sport che ti ha visto assoluto protagonista. Che aspettative hai per questa stagione? Tu che da sempre sei uno molto ambizioso che punta in alto. Buonasera a tutti. Prima cosa mi fa piacere di essere capitano di questa squadra che per me oltre una squadra è anche una famiglia e spero di vincere questo campionato con questa squadra che secondo me abbiamo le possibilità di vincerlo. Però come si dice, lavorando bene ci saranno dei risultati buoni ma dipende tutto da noi. Ovviamente, come dicevamo anche prima, sei uno che non si nasconde mai e l'hai dimostrato con la prima risposta, come al solito. Infatti una delle tue qualità più apprezzate è proprio l'onestà che hai sempre dimostrato. Per questo io ti chiedo anche a livello personale cosa chiedi a questa stagione? Mino Sennega in cosa deve migliorare? Vabbè, prima cosa io ringrazio i due mister Massimiliano Triolo e Massimo Stravato che ci stanno insegnando delle cose che io non sapevo che esistessero nel calcio a cinque e per questo li ringrazio e con il loro aiuto spero di migliorare nel tempo. Pronti all'esordio in campionato prima partita subito casalinga l'obiettivo è vincere naturalmente. Beh sì, per noi tutte le partite il primo obiettivo è vincere la partita poi, ti ripeto, dipende sempre da noi se vincere, pareggiare, perdere vediamo quello che succede. L'avversario del Lido e il Pirata è il Lido e il Pirata. Sì, esatto, siamo noi i nostri avversari. Grazie Mino. A te. Siamo con Pasquale D'Alterio giocatore del Lido e il Pirata Calcio a cinque segnalato come uno dei migliori under 23 dell'intero campionato non per niente ricordiamo Pasquale che l'anno scorso a detta di tutte le squadre sei stato eletto come uno dei giocatori rivelazioni del campionato addirittura di Serie C1 quindi anche per te ci sono delle aspettative molto alte. Come gestisci se l'avverti naturalmente magari non l'avverti questa pressione? Buonasera a tutti no, pressione del genere non ne abbiamo e l'unica cosa che conta è fare bene questo campionato e soprattutto divertirci. Nelle due partite di Coppa andate in ritorno contro la MB Frosinone si è subito vista la tua impronta hai dimostrato che può essere subito un giocatore importante anche tu cresciuto nel Calcio 11 ma nel Calcio 5 un anno e mezzo già ottimo ripetiamo in Serie C1 con la Vis cosa ti può dare quell'esperienza in una categoria inferiore ma comunque con una squadra che punta in alto? Beh c'è sempre da imparare e niente quindi cerchiamo di fare un ottimo campionato e pensare partita per partita Visti i tuoi gol in Serie C1 dell'anno passato hai già fissato nella tua testa una quota personale tua per questa stagione visto che magari in Serie C2 chissà puoi anche raggiungere la doppia cifra Cerchiamo sempre di migliorarci campionato per campionato grazie Pasquale siamo con Simone Saccoccio altro nuovo volto della stagione 2018-2019 del Lidl Pirata Calcio 5 anche per te Simone stagioni importanti alla corte del presidente Vaccaro atletico Sperlonga ricordiamo che in due stagioni sei andato oltre i 20 gol quindi anche tu insomma sei stato preso per centrare la porta chiedo anche a te come con D'Altero in precedenza se senti questa pressione questa responsabilità più che altro no vabbè buonasera a tutti pressioni no perché cioè alla fine siamo sempre una squadra noi ci divertiamo alla fine a giocare a pallone quindi cioè non non sentiamo pressioni non sentiamo niente a livello personale però ti aspetti ti chiedo qualcosa in più rispetto alle due scorse stagioni che comunque hanno visto la salvezza della Tegosperlonga però è inevitabile che in una squadra come questa in un roster come questo l'asticella si alza vabbè sì la nostra rosa è molto importante abbiamo tanti validi giocatori comunque abbiamo pure tanti portieri noi puntiamo sempre a fare il massimo poi il resto viene da sé tu che sei un uomo di sport al di là del calcio a 5 sappiamo i tuoi trascorsi anche di livello nel basket hai respirato spogliatoi per tantissimi anni che idea ti sei fatto di questa squadra del team in generale secondo te dove può arrivare quest'anno il Lido e il Pirata vabbè lo spogliatoio è sempre importante cioè ci si vengono i campionati con gli spogliatoi io conosco parecchi dei ragazzi che comunque già sono qui e ne ho conosciuti di nuovi che comunque già ho conosciuto anche in altri vari ambiti la rosa è molto importante bene Simone allora ringrazio anche a te e in bocca al lupo per sabato per la prima giornata di campionato grazie e concludiamo con l'altro nuovo acquisto del Lido e il Pirata l'eroe di fatto del primo turno di Coppa Lazio con la doppietta nel match di ritorno contro l'MB Frosinone che ha consentito al team del presidente Schiappa di passare per l'appunto al secondo turno della competizione laziale Leone Ruscito altro under 23 di livello sempre proveniente dall'atletico Sperlonga cosa si aspetta da questa stagione un ulteriore salto di qualità? Buonasera a tutti innanzitutto e mi aspetto solo di allenarci bene durante tutta la settimana per dare il meglio il sabato durante la partita e speriamo che il campionato che è di livello rispecchia anche la squadra che siamo noi che siamo un'ottima squadra e abbiamo buone qualità individuali e tecniche Adesso ti faccio la domanda a cui mi aspetto una risposta sincera l'anno scorso nello Sperlonga avevi molto minutaggio probabilmente eri l'under 23 di riferimento inutile nasconderlo quest'anno ci sono altri under 23 di grande livello prima abbiamo ascoltato D'Alterio come gestisci questa convivenza sei consapevole del fatto che magari il tuo minutaggio potrebbe essere minore e quindi quei minuti che giochi sei per forza di cose chiamato a dare di più Certo assolutamente siamo una squadra è giusto che giochi quello che si merita di più io farò del tutto durante la settimana per cercare di giocare anche quelle minuti in più durante la partita però se gioca un altro under oppure un altro ragazzo al posto mio non ci sono nessun problema perché siamo una squadra quindi uniti verso obiettivi importanti diciamo così sì assolutamente bene ringraziamo anche Leone Ruscito in bocca al lupo anche a te naturalmente grazie mille siamo con Paolo Muccitelli uno dei protagonisti assoluti della cavalcata che hanno portato lo scorso anno il Lido il Pirata dalla serie D alla serie C2 quest'anno momentaneamente i box per un infortunio però Paolo anche tu fai parte della cosiddetta vecchia guardia quindi puoi dare una panoramica di insieme della squadra soprattutto dei nuovi cosa ti aspetti da questa stagione tu che sei sempre uno molto centrato e meticoloso anche nel dare giudizi beh io spero che possa dare un contributo alla squadra per il momento mi sto allenando a parte ieri mi sono allenato con la squadra ho cominciato a fare un po' di lavoro insieme e spero di recuperare al meglio anche se sto un po' indietro a livello fisico però cercherò sempre di dare il massimo mettermi a disposizione al meglio della squadra ovviamente ci sarà per te da completare come dicevi tutta la parte inerente alla preparazione quindi realisticamente se non ci sono intoppi tra circa un mesetto potremmo vederti quasi al top o comunque vicino al top giusto? Io lo spero perché fa parte anche della mia vita e senza il calcio giustamente non si riesce a stare diciamo che l'anno scorso all'inizio sei partito un po' con i fari spenti però poi nel corso della stagione sei venuto fuori alla grande è un po' da sempre una delle due caratteristiche anche del calcio 11 quella di fare il cosiddetto diesel venire fuori alla distanza anche l'anno scorso purtroppo ho avuto un piccolo intervento che mi ha fatto stare praticamente come adesso un po' fuori all'inizio ma poi alla fine piano piano lavorando bene durante le settimane sempre con la massima voglia impegno sacrificio perché queste cose se non metti sacrificio non le riesci a fare al meglio sono riuscito ad uscire fuori e fare la mia parte insomma bene quindi speriamo che possa essere anche la serie C2 di Paolo Muccitelli lo spero ovviamente grazie in bocca al lupo grazie siamo con Denis Cepa centrale difensivo del Lidl Pirata Calcio a 5 che è arrivato nello scorso mercato di dicembre e insieme ad Alessandro Giunta è stato importantissimo poi per il raggiungimento di quella famosa Coppa Provincia che vi ha consentito di andare in serie C2 quindi sei ormai uno che fa parte del gruppo storico come vedi l'integrazione diciamo così tra i vecchi e i nuovi della squadra per quello che hai visto finora naturalmente sì innanzitutto buonasera a tutti l'anno scorso è stata una bella stagione perché alla fine siamo riusciti nell'obiettivo cioè quella di conquistare la C2 per la nuova stagione la nuova squadra i ragazzi ci sono molto integrati molto bene con i vecchi i nuovi e quindi stiamo costruendo una grandissima squadra perché stiamo puntando qualcosa di grande e innanzitutto non solo a quello ma anche puntiamo pure a qualcosa di più importante a salire in C1 se gli obiettivi riescono se no pazienza chiedo chiedo anche a te un po' quello che avevo già domandato a Ruscito ovvero quest'anno forse ci sarà un po' meno minutaggio proprio perché gli acquisti sono stati più importanti tu che comunque sei un grande lottatore sei pronto a battagliare per una maglia immagino di sì certamente bisogna lavorare tutti i giorni per risultare alla fine per giocare nessuno ti mette ti mette il posto fisso a giocare al sabato però tu devi ogni elemento ogni ogni giorno devi convincere il misto che tu puoi dare di più alla squadra mi sembra di vedere che quindi c'è una grande unità di intenti nel vostro gruppo avete già messo avanti l'obiettivo quindi siete già un passo avanti quindi l'obiettivo senza troppi giri di parole è quello di arrivare direi almeno nelle prime tre bravo l'importante è giocare tutti quanti e che la squadra si si unifichi e vada verso un obiettivo cioè quella di salire di puntare in alto chi giochi giochi non è un problema basta che vinciamo e si arriva all'obiettivo ok allora grazie Dennis e ovviamente in bocca al lupo anche a te grazie Grebi grazie a tutti